Buongiorno cantanti, che cos'è il Villa Voice? Il Villa Voice non è un metodo di canto, è un percorso in cui vi accompagno. Il mio scopo è quello di aiutare il cantante professionista o dilettante o lo studente di canto ad affrontare gli esercizi di canto senza ansia, a conoscere tutti gli elementi della teoria musicale e il solfeggio divertendosi di dare a insegnanti di canto, maestri di scuola, professori di musica, degli strumenti per la didattica del canto ai bambini attraverso le favole che ho scritto, illustrato e pensato con molta cura. L'altro aiuto che desidero offrire è quello di un approccio alla didattica della dizione italiana per il canto, che non è esattamente la dizione standard che troviamo nei dizionari o quella che viene utilizzata dagli attori. Pertanto è molto importante approfondire questo argomento, sia per cantanti non madrelingua, che ne hanno sicuramente molto bisogno, ma anche per noi è molto molto utile. Questi video non sostituiscono un corso di canto personalizzato, dove un insegnante di canto vi segue, vi ascolta, vi corregge, soprattutto vi ascolta e sente come eseguite voi gli esercizi. È un'integrazione, un aiuto, un invito ad ascoltarvi, ad ascoltare le sensazioni sia fisiche che non durante l'esecuzione degli esercizi, quindi un invito a scrivere il vostro diario di viaggio. Se vi fa piacere scrivetemi pure e raccontatemi i vostri dubbi, le vostre frustrazioni, ma anche i vostri successi. Oppure contattatemi per lezioni private o di gruppo. Buon canto a tutti, ciao! Grazie a tutti!